Ciao ragazzi, faccio la merenda, sono un panino con prosciutto cotto, con montadella, scusate. Con montadella. Con montadella. è buono fa sentire anche io da sola non sa che io da anni avevo una casa se io da anni 50 anni avevo bambini se io sono come la mamma come un marito di valentità e mi è moroso la mamma e il papà vuol dire che siamo sposati da grandi eh sì è buono è buono e se vuol fare tanti panini se mangia frutta e verdura anche in salata che è buono io faccio sempre io mando sempre il video la mamma è buono dure di frutta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so che hai voglia di manare questo, è per me, è fatto io, sono brava, bravissima. A questo video ti è piaciuto, mettete un like. E al prossimo video, ciao!